eccoci qua buonasera a tutte e a tutti mi trovo ancora una volta con grande piacere in compagnia di Antonella Rossi che rappresenta Clubatar Web Marketing e che rappresenta comunque un pilastro per ognuno di noi e per tutti noi che la conosciamo per quello che riguarda l'assistenza e il supporto eh del marketing stesso Antonella Cara buonasera a te come stai? Buonasera buonasera a te Antonio buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo sto bene grazie sto molto bene emozionata per questa serata argomento direi molto importante molto attuale e quindi siamo pronti? Siamo siamo pronti abbiamo scelto di parlare del cambiamento come atto di responsabilità e mh ed è un argomento a noi molto caro particolarmente importante lo abbiamo accennato in altre dirette ma eh questa sera lo vediamo in maniera un po' più approfondita e eh cercheremo di entrare proprio nei particolari di tutto quello che riguarda sia il cambiamento e sia la responsabilità per iniziare a parlare di questo tosto argomento diciamo così ma molto importante per ognuno di noi abbiamo scelto di leggere una eh parte del mio primo libro che è la magia dell'essere dove mi sono spinto oltre e ho parlato non a caso già qualche anno fa di cambiamento e il titolo di questo breve passaggio è il cambiamento è lungimirante la la frase che precede diciamo così il il testo che vado a leggere dice devi a te stesso più di quello che immagini ed è una frase solitamente che si mette di personaggi famosi questa volta ho messo una mia frase e ma non sono ancora diventato famoso da quel tempo ma va bene lo stesso questo pezzo dice situazioni ed errori non sono affatto casuali all'interno della nostra esistenza persone incontrate ed esperienze fatte sono nella nostra realtà perché lo abbiamo permesso in accordo con la nostra anima permettiamo in ogni istante alla nostra vita di emergere nel modo migliore e consono noi autorizziamoci a vivere la gioia l'amore la paura le cose semplici e quelle più difficili il permetterci qualsiasi cosa genera un'energia tale che l'universo risponde a ciò che ci consentiamo determinando quello che si manifesterà nella nostra vita quando siamo pronti al cambiamento ogni situazione con esso porta a vibrazioni energetiche più elevate per sostenerci in tale progetto ogni atteggiamento condito di paura il credere di non meritare di non essere forte di non essere divino consente a queste energie ristrette di riflettersi nei vari aspetti della nostra vita l'energia del consentire è la chiave per capire come l'energia universale opera con noi per creare la nostra realtà quando ci sentiamo senza valore nella nostra vita ricordiamoci che abbiamo consentito che questo avvenisse e continua a succedere perché limitiamo l'espressione del nostro potenziale l'espressione del nostro valore prevede una diversa attenzione a quello che ci consentiamo i cambiamenti infatti non possono avvenire sino a quando non ci apriamo in modo chiaro a nuove energie l'impiego differente delle nostre energie trasforma ogni cosa che ci circonda e accettiamo anche di vivere nella gioia accantonando stati emozionali energeticamente zaborranti rendiamoci disponibili ad accettare la realtà per quella che è e nello stesso tempo apriamoci alle novità che favoriscono il cambiamento quel mutare insito nella natura umana sin dalla gestazione e che proseguirà fino all'ultimo istante della nostra vita un cambiamento continuo chiestoci dalle energie universali e che non possiamo non ascoltare pena l'involuzione del nostro essere un cambiamento vitale che può avvenire costantemente favorendo la nostra evoluzione e chiunque incontri il nostro cammino di vita quel cambiamento che è un atto dovuto alla vita tanto lungimirante quanto coerente con gli accordi presi dalla nostra anima con le energie universali abbiamo scelto più che altro Antonella ha avuto l'occhio giusto per andare a pescare questo passaggio del mio primo libro che è proprio interessante a mio avviso perché parla di cambiamento come elemento lungimirante e il cambiamento porta verso quell'evoluzione che è parte integrante del progetto iniziale di vita giusto Antonella assolutamente Antonio assolutamente come come ho scritto stamattina nel post di invito alla partecipazione a questa nostra diretta il cambiamento è la legge naturale della vita nulla resta fermo tutto cambia tutto si trasforma tutto si evolve cambia forma e di conseguenza eh il cambiamento è sempre attuale c'è sempre stato il cambiamento ha permesso l'evoluzione dell'uomo se parliamo di storia ed è comunque un aspetto che dobbiamo mettere in conto sempre quindi direi mai adagiarsi no essere sempre proattivi e aperti come dici tu in questo capitolo del tuo libro per andare incontro al cambiamento e non fare resistenza volevo leggere anch'io due righe che definiscono che cos'è il cambiamento il cambiamento è una situazione o un processo in cui le circostanze le condizioni gli oggetti le persone o le idee si trasformano o si evolvono da uno stato a un altro può riguardare una varietà di aspetti della vita inclusi cambiamenti fisici sociali psicologici culturali o ambientali il cambiamento può essere graduale o improvviso positivo o negativo e può essere scaturito da molteplici fattori o cause in generale il cambiamento rappresenta una deviazione rispetto a uno stato precedente e può avere un impatto significativo sulla vita delle persone sulle organizzazioni e sulla società nel suo complesso direi che no abbiamo un po' dato una definizione forse un po' accademica quantomeno da vocabolario di cosa si intende per cambiamento ed è importante il cambiamento per tutta una serie di motivi che adesso andiamo un po' a sviscerare e intanto come abbiamo detto poc'anzi il cambiamento è segno di progresso e di crescita se andiamo insomma nella nostra storia abbiamo visto che il cambiamento è proprio il motore del progresso e della crescita a qualsiasi livello sia individuale che collettivo senza cambiamento si rischia di stagnare in una situazione che protratta poi nel tempo non porta da nessuna parte il cambiamento ci introduce all'innovazione allo stesso tempo è alla base anzi dell'innovazione attraverso il cambiamento infatti nascono nuove idee nuove tecnologie nuovi processi e approcci che possono essere introdotti e sviluppati portando anche a miglioramenti significativi nella vita delle persone e anche nella società nella società nelle organizzazioni se pensiamo per esempio al diciannovesimo secolo che è stato il boom delle scoperte delle innovazioni sono andata a cercarmi prima su google che cosa è stato inventato nel diciannovesimo secolo e quindi vediamo la lampadina l'ascensore elettrico per esempio il motore a scoppio quindi da qui anche l'automobile il telefono il grammofono la macchina da scrivere la bicicletta il tram elettrico quindi sono state tutte invenzioni e tutte innovazioni che hanno portato sicuramente l'essere umano e la società ad evolvere quindi gli spostamenti sono stati più semplici le comunicazioni sono diventate più estemporanee ma anche ecco per esempio la macchina da scrivere no in ambito lavorativo ha permesso di sveltire alcuni processi anche di archiviazione di documenti la stampa mi viene in mente no e quindi sono state tutte innovazioni che hanno portato a un'evoluzione a un progresso a un miglioramento della vita in tutti gli ambiti chiaramente anche parlare di cambiamento ci riporta anche un po' all'adattamento ambientale quindi anche il mutare dell'ambiente intorno a noi che sia a livello naturale che sia a livello economico sociale tecnologico eccetera è necessario adattarci quindi cambiare man mano che l'ambiente circostante muta noi dobbiamo in qualche modo adeguarci stare al passo con tutto quello che è intorno a noi e l'innovazione quindi il cambiamento ci porta anche a un miglioramento della qualità della vita no abbiamo visto prima che nuove invenzioni nuove innovazioni ci portano appunto a migliorare la qualità della nostra vita promuovendo in alcuni casi anche il nostro benessere mi viene in mente che ne so una volta si ci si doveva scostare a cavallo con la carrozza ci si impiegavano tanti giorni con l'avvento della dell'automobile chiaramente si sono ristretti i tempi abbiamo guadagnato magari no di di stanchezza di perdita di tempo se vogliamo e quindi abbiamo comunque migliorato diversi aspetti della della nostra vita il miglioramento tra l'altro è una sfida e come tale porta anche a una crescita personale se vogliamo sviluppa sicuramente resilienza flessibilità e altre competenze trasversali che ci servono per evolvere per ampliare anche i nostri talenti e le nostre risorse e quindi come si può fermarci di fronte al cambiamento è andare anche contro natura un altro aspetto importante è la competitività che cosa vuol dire che le aziende e anche i professionisti per restare al passo con i tempi ed essere competitivi sul mercato devono cambiare devono evolversi devono adattarsi alle esigenze dei clienti migliorare i prodotti che vendono e anche i servizi che offrono quindi a seconda del campo di lavoro è chiaro che bisogna evolversi per restare a passo al passo coi tempi ed essere competitivi sul mercato un altro aspetto importante è la sostenibilità perché anche il cambiamento climatico per esempio la degradazione ambientale o la scarsità di risorse ci devono portare a trovare delle soluzioni quindi a cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di quello che accade intorno a noi e adeguarci e quindi raggiungere il più possibile la sostenibilità e chiaramente rispetto a tutto quello che ho detto poc'anzi quindi l'innovazione per quanto riguarda appunto tutti gli aspetti che ci portano verso un miglioramento porta anche a una crescita economica se vogliamo contrariamente a quanto a volte si è pensato anche in passato che un nuovo evento una nuova invenzione potesse ridurre ad esempio lavoro per determinate categorie in realtà si è visto che seppur spariscono determinate categorie di fronte a un' innovazione una nuova invenzione ne nascono delle altre posso fare un esempio adesso si parla no è molto attuale parlare di intelligenza artificiale c'è un allarme totale per cui si pensa che l'intelligenza artificiale possa togliere lavoro a molte persone in realtà non è proprio così nel senso che accettare questa innovazione farla nostra imparare a conoscerla e ad utilizzarla chiaramente come strumento al nostro vantaggio non può far altro che invece aprire le porte a nuove categorie di lavoratori quindi di persone che si specializzano ad utilizzare questa nuova tecnologia per il nostro benessere per migliorare per sveltire alcuni processi ad esempio io sto imparando adesso ad utilizzarla e devo dire che per alcune cose veramente è un grande aiuto faccio un esempio ultimamente ho scritto un articolo per il mio blog sul mio sito ho inserito come prompt un post che avevo scritto tempo fa su facebook e ho chiesto all'intelligenza artificiale di tirare fuori di stilare un articolo è stato molto utile in pochi secondi avevo i titoli sottotitoli chiaramente poi ci ho rimesso le mani ho aggiustato ho cambiato e ho utilizzato la mia modalità di scrittura il mio tono voice però avere già uno schema dal quale partire mi ha sicuramente aiutato a risparmiare tanto tempo per cui è chiaro che eh all'inizio eh queste queste novità ci mettono un po' sotto pressione ma poi eh imparando a conoscerle chiaramente e riusciamo a sfruttarle a nostro vantaggio quindi eh chiaramente la crescita economica è è importante per tutti quanti noi e eh un altro aspetto è l'adattamento eh sociale e culturale cioè una società e una cultura si evolvono con il tempo e quindi il cambiamento è essenziale per adattarsi a nuove norme a nuovi valori a nuove aspettative sociali e anche culturali ma anche alle nostre esigenze personali perché noi stessi con il tempo cresciamo evolviamo mutiamo e quindi cambiare adattarci anche alle nostre esigenze è importante in sintesi possiamo dire che il cambiamento appunto è importante rappresenta un mezzo sicuramente per affidare e per affrontare delle sfide eh però è l'opportunità di progredire di andare avanti eh sia nella sfera personale sia nella sfera professionale sociale e anche ambientale eh è appunto l'elemento chiave per l'evoluzione umana ma sicuramente non è poi tutto oro quello che ho detto nel senso che poi entrano in entrano appunto in eh movimento alcune cose che eh ci fanno paura e che in qualche modo eh così ci possono bloccare di questo direi che ce ne può parlare molto meglio Antonio ma sai molto meglio molto meglio non lo so però comunque la tua esperienza comunque dobbiamo parlare nel settore olistico sicuramente sì 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 ci sono sicuramente tante eh tante resistenze no che noi esseri umani eh presentiamo ah di fronte alla realtà dei fatti di fronte alla vita e opporre resistenza è un po' come mh voler nascondere una certa sofferenza talvolta e più ci si oppone a a qualcosa e più cresce il nostro disagio il nostro malessere in generale che colpisce spesso e volentieri se non sempre il nostro corpo quindi la resistenza mh talvolta è anche un un aiuto paradossalmente perché ci sostiene in quei momenti dove eh questa forza che viene creata ad arte per così reggere situazioni che abbiamo richiamato ed improvviso mh non vogliamo più perché intimoriti dalla presenza di questi di questi fatti per cui è un po' una lotta costante quella della nostra resistenza di fronte ai fatti della vita e e dobbiamo mh assolutamente renderci conto di quanto possa si supportarsi in certe situazioni ma di quanto possa essere un disequilibrio generale dei disequilibri autentici e spesso e volentieri e opporsi mh inconsapevolmente a questo ehm diciamo che è un supporto a volte anche anche alla noia se vogliamo dire ad una dimenticanza la difficoltà di accettare i fatti e al cambiamento stesso di cui insomma questa sera abbiamo avuto un po' l'ardire no? Di voler parlare e mh in alcuni casi anche una una protezione una protezione primaria che mh mette una barricata mh una barriera forte ehm davvero inamovibile in certi casi pur di mantenere tutto invariato ecco le resistenze possono essere un qualcosa che ci sostengono in certi in certe situazioni in certi frangenti ma spesso sono davvero delle barriere molto molto forti che non permettono la resistenza stessa non permette né in uscita né in entrata di avere uno scambio no? E questo è fondamentale questo accade frequentemente quando lavoriamo nel nostro amatissimo mondo olistico con le persone e ci rendiamo conto di quante barriere no? Vengono poste dalle persone stesse pur di non cambiare la propria situazione perché è quella famosa zona che consente alle persone di sentirsi in uno stato di conforto generale mettiamola così e si pongono proprio ehm in una barriera di fronte a una barriera veramente alta e molto molto forte per per cui mh un po' come a non voler cambiare proprio i fatti della vita perché comunque vada anche se non ci piacciono quelli a noi vanno bene perché in qualche modo li conosciamo e li sappiamo diciamo gestire anche se non sono costruttivi anche se non sono propositivi per la nostra esistenza però diciamo che è un po' come ehm mettersi in quell'ambito no? Che eh io fatico anche a dire questo termine ma stasera lo devo dire che è quello della rassegnazione cioè un po' quel va bene così figlio di una rassegnazione ok? Più che alimentato da una fiducia incondizionata nei confronti dell'esistenza dell'universo soprattutto del potenziale no? Eh tipico di ognuno di noi ecco questi aspetti sono importanti da considerare tutte le volte che ehm noi ci mettiamo di fronte ai ai fatti della vita con una barriera molto forte ed è un pericolo per il cambiamento un pericolo autentico perché viene minata la possibilità di trasformare no? Quello che siamo di fronte agli eventi della vita. Tutte le scoperte che tu hai menzionato prima nel diciannovesimo secolo non ci sarebbero state se eh no? Eh determinate persone, determinati studiosi, scienziati non si fossero posti in una possibilità di cambiamento ok? Ecco è la possibilità di cambiamento e possiamo farcela tutte le volte che iniziamo a fare qualcosa ecco come si può vincere magari una resistenza. Questo fa una grande differenza perché siamo più intenti a difenderci no? A proteggerci da eventuali pericoli ipotetici che la mente ci vuole presentare ma anche grazie a quella difesa straordinaria che è legata al cervello arcaico ma noi gli diamo un proprio benzina a questa situazione e alimentando quel fuoco che tiene su delle barriere molto molto forti. Ecco non abbiamo talvolta il coraggio di uscire dagli stati ordinari per entrare in qualcosa di straordinario e perché un fatto, una questione, una situazione che ci riguarda un cambiamento sia straordinario non c'è bisogno che sia eclatante. È già di per sé straordinario un cambiamento, è già di per sé straordinario un atto trasformativo riferito a come ci comportiamo, a come viviamo il mondo del lavoro, a come ci rapportiamo soprattutto con le persone, nella relazione e la resistenza mette anche in evidenza un rapporto di relazione con le persone che è spesso arrogante, che è spesso mosso da una difesa arcigna ma che diventa davvero arrogante perché nella comunicazione diventiamo supponenti, entriamo nella dualità grazie alle resistenze che vede bello brutto, alto basso, giusto sbagliato, che vede io ho ragione e tu hai torto. Ecco queste sono dinamiche che dipendono molto da come noi resistiamo di fronte alla possibilità di avere uno scambio di fronte a qualcuno che ha dei pareri, delle opinioni differenti dalle nostre e diventa pericoloso davvero per il cambiamento perché noi ci arrocchiamo diciamo così in una mentalità che è tutta nostra e che non vuole mutare, non vuole proprio essere scardinata in nessun modo, può uno scudo per ribattere determinate fantomatiche avversità ma soprattutto ribatte le opportunità. Ecco che cosa sono i cambiamenti, ecco cosa sono le trasformazioni e questo è molto utile da fare entrare nella nostra mentalità e nelle nostre dinamiche quotidiane perché noi dobbiamo e possiamo essere malleabili di fronte a quello che nella presenza accade e quello che accade è sempre qualcosa che ci porta al cambiamento. Io non posso permettermi di continuare ad andare dritto su una strada quando la strada fisicamente curva, perché io non mi ho fatto ad andare dritto, adesso faccio un esempio, fondamentalmente se io non divento complementare al percorso che sto facendo, non divento abile al cambiamento ma anche nei più semplici per amor del cielo diventa complicato, un po' come se per andare in un determinato posto sempre con la mia auto e sempre per strada io non abbia l'ardire di cambiare strada ogni tanto oppure se ci sono dei lavori in corso cosa rara peraltro nel nostro paese rarissima, io a volte metto il cartello di cantiere, lavori in corso tra il soggiorno e il bagno, così giusto perché non è abituato a quello che troverò fuori e questi lavori in corso mi obbligano a cambiare strada e io invece che arrabbiarmi per questa cosa in realtà posso cogliere l'occasione perché magari passando di lì vedrò delle situazioni o dei negozi oppure delle insegne oppure vedrò un paesaggio diverso che può ispirarmi qualcosa di interessante che abbatte quella modalità di resistere, di resistere, cioè di non mettere scudo perché poi nella realtà è giusto difendersi in certe situazioni della vita ma essere costantemente in difesa come dico io è un po' come se un giocatore di basket entra in campo per una partita e il suo primario intento cioè la sua intenzione fondamentale è quella di giocare quella partita cercando di non farsi male. Si farà male ma non per sfortuna o fortuna che sono invenzioni umane, si farà male perché non sarà fluido nei movimenti, sarà troppo attento a, avrà messo delle barriere, avrà messo degli scudi e si muoverà come non si è mai mosso e quindi non è in grado di effettuare il giusto cambiamento che lo porta ad essere sciolto e libero giocando la partita con serenità. Ecco, giocare troppo in difesa diventa un bel problema a certo punto e queste sono un po' anche le nostre resistenze. Crescere costa fatica e quindi talvolta non ci sembra che ne valga il sacrificio però noi non intendiamo bene, le resistenze sono anche frutto di una non conoscenza del significato, delle tipologie, dei termini no? Il sacrificio è qualcosa di bellissimo di importante, non è fare qualcosa che non ci piace oppure massacrarci fisicamente per ottenere un risultato che può starci talvolta ma fondamentalmente è rendere sacro ciò che facciamo, rendere sacro il nostro pensiero, una nostra intenzione. Quindi il sacrificio come viene inteso nella maggior parte dei casi in una mentalità come quella del nostro paese è qualcosa di negativo ma nella realtà nel profondo del termine rendere sacro qualcosa significa proprio porsi verso un cambiamento perché qualcosa che è sacro obbliga anche in quella situazione ad essere realmente pronti alla trasformazione. Il sacrificio è trasformazione, questo è molto importante. E poi possiamo valutare alcuni aspetti che ci portano proprio a quella condizione che, a quelle resistenze che possono prendere il corpo, no? Quando la paura prende il sopravvento sulla gioia. Ecco, la resistenza è figlia di grandi paure che ci portano a non vivere seguendo il nostro impeto, seguendo la nostra anima, il nostro cuore, il nostro spirito, il nostro spirito guida soprattutto e mettendoci in una situazione davvero che non è più di comfort come si pensa, ma è di grande sconfort come effettivamente la vogliamo vedere perché è così, perché non ci rende felici, non ci rende sereni, non ci rende soddisfatti e propositivi nei confronti della vita. E quindi quando la paura prende il sopravvento sulla gioia e io voglio giocare in difesa con queste mie resistenze alimentando la dismisura, è chiaro che io limito quel risveglio della mia consapevolezza limitandomi ad essere costantemente ordinario, che non vuol dire essere in gara con qualcun altro, significa essere nella condizione di potermi esprimere al meglio delle mie possibilità. Ecco, questo è molto importante. E essere consapevoli, diciamo così, che le resistenze sono parte di noi, non è così semplice scardinarle o non averle e quindi quando ci sono, forse in ascolto, in accettazione di queste sicuramente e possiamo anche ammettere che diventino le nostre più preziose alleate su quello che è la via dell'evoluzione, su quello che è il nostro percorso, percorso personale. E quindi sappiamo anche che determinate resistenze ci hanno salvato talvolta e ci hanno mantenuto in vita perché potessimo poi manifestare quella sana consapevolezza anche dei nostri mezzi. Talvolta ci hanno salvato, non sono solo un aspetto negativo. È evidente che dall'essere sempre resistenti a non esserlo mai sono due eccessi, ma riuscire ad essere attenti a livello cosciente e consapevoli nella profondità di quanto importante sia talvolta resistere a determinate cose, ovvero non cadere in determinati ambiti o situazioni o atteggiamenti, questo è sicuramente più consono per la nostra salute, per la nostra evoluzione. E quindi questo ci consente di essere finalmente noi stessi, ma perché ci permettiamo attraverso quel cambiamento di trasformarci? Altrimenti il bruco rimarrebbe bruco e insomma non ne vediamo mai qualcosa di straordinario. Il cambiamento poi comunque può anche portare a stravolgimenti e trasformazioni poco equilibrate, poco biologiche per quello che ci riguarda come esseri umani e poco logiche e talvolta anche non prive di poco buonsenso. Però effettivamente noi abbiamo quella possibilità di essere presenti nella vita e attraverso l'ascolto del nostro corpo comprendere quanto quella resistenza che stiamo attuando ci fa star bene oppure ci mette in forte disagio. Ecco questi sono aspetti molto importanti per cui nel momento in cui riusciamo a riconoscere una resistenza, ad accoglierla, a seguire la resistenza fino a quella che è la sua origine, noi stiamo già facendo dei passi molto molto importanti, di questo ne abbiamo anche già parlato in altre situazioni e permetterci di essere ciò che siamo nel qui e ora, nel presente, proprio permetterci di quello che siamo, proprio liberamente ciò che siamo, ovviamente con l'educazione, con i modi, con tutto quello che sappiamo essere consono per la relazione giusta con le altre persone e anche con le cose, con i fatti della vita, ma nella presenza proprio essere consapevoli di avere una certa resistenza ci comporta davvero una certa quiete, anche perché ne prendiamo atto. E poi terminare di battagliare costantemente con questa persona, con quell'altra persona, già sui social si vede che c'è una guerriglia clamorosa, lo vediamo per strada, lo vediamo in posta, io ho scoperto che in posta nella matematica non conta niente, perché se tu hai il numero 50 e qualcuno ha il 52, passa comunque davanti a te. E quindi a quel punto ho detto, ma perché ci hanno insegnato una matematica? E a quel punto ho detto accogliamo, l'ho scoperto, quando ho spedito il mio libro ad Antonella Rossi, ho scoperto che la matematica non conta nulla e quindi mi sono detto, ma per quale motivo io devo battagliare? Non posso battagliare di fronte a questo perché non ha senso. Non resistiamo, vi capite? E sarebbe una resistenza a battagliare in quel caso e quindi accogliere, accogliere che anche la matematica, per quanto una scienza veramente perfetta, non ha più valore in certi casi e quindi non prendete neanche il numerino in posta, questo ve lo posso garantire, non serve a niente. Il primo che arriva, meglio alloggio. E poi un altro aspetto che consiglio è quello di essere, di passaggio poi verso l'accoglienza, quindi non più battagliare, essere accoglienti senza farsi mancare di rispetto, ci mancherebbe, dall'accoglienza andare all'esplorazione di sé attraverso una spiritualità, qualcosa che va nel profondo ed essere intenzionati seriamente ad ascoltarsi. Ecco, questo fa una grandissima differenza. Noi abbiamo dato questo titolo che secondo me con Antonella abbiamo scelto molto bene, ovvero il cambiamento come atto di responsabilità. Vuol dire che noi ci permettiamo attraverso il cambiamento di essere responsabili, ovvero abili a rispondere. E quando ci rendiamo nell'intenzione e nella coscienza e nella consapevolezza abili a rispondere, noi ci siamo già trasformati, abbiamo già accettato il cambiamento. Per cui dall'accoglienza all'esplorazione di sé significa davvero che cambiare ci pone di fronte alla abilità di rispondere ai fatti della vita, che sono poi quelli che noi abbiamo chiesto alla vita, le cose che chiediamo alla vita, ma sono anche le cose che la vita, l'universo chiede a noi. Quindi per essere abili a rispondere è opportuno procedere verso l'accoglienza, l'accettazione delle nostre resistenze, guardarle in faccia, chiedere che cosa vogliono da noi, vedere se ha senso avere ancora quella resistenza e poi passare proprio a un atto di accoglienza profonda e di accettazione per potersi porre di fronte a noi stessi e esplorarsi internamente nella profondità e vedere che cosa c'è più che perdere tempo, diciamo così, più che impiegare energia in malo modo resistendo a questo o a quello o litigando se quello col 52 riesce a spedire la lettera prima di te e tu avevi il 50. Poco importa quello perché non ci è cambiato nulla nella vita, se abbiamo accolto anche questa farneticazione diciamo così matematica. Bene, bene Antonio, sì è come dici tu, è importante questo, intanto rendersi conto quando resistiamo a qualche cosa, quando abbiamo paura di un cambiamento e essere flessibili e aperti comunque ci permette anche di accorgerci che al di là della paura, al di là della resistenza ci sono tante opportunità che possiamo prendere, no? Fare nostre e che aprono nuovi orizzonti, nuove esplorazioni. Io posso dire personalmente che ho cambiato talmente tante volte nella mia vita, per esempio lavoro, che una volta racconto questo fatto brevemente, mi presentai a fare un colloquio con il mio curriculum tutto bello stilato, con tutte queste belle esperienze di lavoro che avevo avuto e questo professionista che avevo davanti, leggendo tutte queste esperienze, io pensavo che fossero accolte in maniera propositiva, invece questo mi fece una domanda e io rimasi a bocca aperta, ma come mai hai cambiato lavoro così tante volte? Che cosa ha che non va? E io lì risposi ma in realtà ho cambiato lavoro perché gli eventi della vita, sai, lavori a tempo determinato, situazioni che si sono chiuse e quindi poi ho dovuto comunque trovare altri lavori e io gli dissi proprio ma veramente sono stati gli eventi della vita che mi hanno fatto cambiare lavoro tante volte e comunque mi hanno anche aperto a tante possibilità, ho imparato tanto cambiando ambiente e ho sviluppato comunque il talento dell'adattamento in diversi ambienti, ho potuto prendere, imparare cose diverse anche nello stesso ambito, nuove modalità di proporre anche il mio lavoro, per cui quello che io pensavo fosse una grande ricchezza questa persona che forse al cambiamento era molto resistente, l'aveva visto come una cosa negativa, no? Mentre invece appunto si aprono delle nuove possibilità. Io non riesco a vedere, non so se c'è qualcuno che ha fatto qualche domanda. Sì, 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 allora noi intanto salutiamo Cleopatra. Ciao Cleopatra. Liuba, spero di leggere bene, Liuba Molinari, la nostra cara amica Dalia. Ciao. Nicoletta Natrella, sempre Dalia che commenta il cambiamento fa paura e effettivamente fa paura a tutti noi. Dalia che ancora dice ecco ho capito perché fa paura, perché a guardarsi dentro si ha paura di non trovarci nulla. Ringraziamo Dalia per questo che ha scritto. Ah, ho letto bene, grazie Liuba. Fatico a leggere i nomi nostri, figuriamoci gli altri. Bene, un bel nome, mi piace Liuba, bello, bello, particolare, una bella energia. E Dalia dice una cosa a mio avviso molto bella, molto interessante, perché a guardarsi dentro dice si ha paura di non trovarci nulla. Può darsi, a volte le persone riferiscono questo, ma talvolta le persone hanno paura di vedere la propria grandezza. Eh certo, certo. E abbiamo paura di vedere quella unicità e quella grandezza, quella meraviglia, quella magnificenza che ci porterebbe dove? Verso la responsabilità. Esatto. Una volta che hai visto la tua grandezza non puoi più far finta di niente. Esatto. A quel punto ti rendi conto che attraverso anche la tua unicità puoi dare un marchio speciale a una cosa che sì, magari fanno in molti, ma al tuo marchio, che non è un marchio registrato, ha la tua energia, ha il tuo amore, ha la tua anima che hanno proprio dato un imprinting fondamentale. Quindi quello che dice Dalia, da grandissimi spunti e come sempre, la ringraziamo. Grazie Dalia. Davvero, davvero notevole questo. Se alcune di voi, parlo ovviamente sempre al femminile perché le presenze sono sempre femminili, quindi l'aspetto, no? Della sensibilità, la parte femminile ritorna con grande piacere ed è sempre preponderante. Però dicevamo appunto quanto è importante, no? L'esplorazione di sé perché si ha davvero paura. Una volta che andiamo nei meandri proprio, no? Del nostro interno, possiamo renderci davvero consapevoli di quello che siamo, ma soprattutto, come faceva notare giustamente Dalia, si può avere paura, ok? O di non trovare molto o comunque di trovare qualcosa di straordinario. E in entrambi i casi la cosa potrebbe spaventare, anche se sono aspetti diametralmente opposti. Renata, Renata ci dice, vediamo un po', talvolta ci hanno cresciuti senza aiutarci a scoprire dentro di noi la grandezza. Effettivamente sì, Renata, veniamo da generazioni che, come la nostra, hanno fatto comunque il meglio di quello che potevano, ma ricordiamo che noi siamo figli di persone che hanno tendenzialmente visto, così anche di striscio, aspetti che sono legati alla guerra, alla fame, al disagio, alla malinformazione che è rimasta costante, anzi è cresciuta nel nostro paese e soprattutto per tanti altri aspetti, talvolta religiosi, di educazione, di imprinting anche scolastico. Quello che dice Renata trova un riscontro clamoroso nella nostra società, soprattutto nella società italiana. Però noi siamo in grado, abbiamo sempre l'opportunità di vedere la nostra grandezza, abbiamo sempre la grande opportunità di favorire il cambiamento, la trasformazione e di non temere che guardandoci dentro non si possa trovare qualcosa di importante o di bello, perché rendiamoci conto che non potrà mai e poi mai esserci neanche con le più grandi modificazioni genetiche della storia un essere identico a noi. Ecco, se questo non è sufficiente per vedere la magnificenza della nostra persona, della nostra materia, della nostra anima e del nostro spirito, non so che cos'altro potremmo andare a pensare o a cercare per renderci davvero conto, non solo in termini di coscienza, ma anche di consapevolezza, quanto è grande un essere, chiunque su questo pianeta, al di là di quello che ha fatto, al di là di quello che sta facendo e al di là di quello che si propone di fare in un futuro. Poi Imma ci dice, buonasera, è importante cambiare perché abbiamo l'opportunità di vedere la nostra anima. Quindi grazie, grazie Imma per questa cosa conferma un po' quello che è stato detto finora e effettivamente se poi in questi minuti volete magari esprimere in chat qualche piccolo elemento che parla, qualche esempio riferito a un vostro cambiamento importante, no? Fatelo con... come l'hanno vissuto, come... esatto, come si è aumentato... perché tutto questo è davvero importante, no? In questo scambio. Noi usiamo le parole ma non sempre ci rendiamo conto dell'energia che esce da tali parole e quindi davvero esserne consapevoli di quanto il cambiamento sia fondamentale ma permetterselo non tanto il cambiamento in sé che potrebbe essere un cambiamento tra virgolette di poco conto ma sempre un passo verso qualcosa di successivo. Certo. Liuba ci dice talvolta ci siamo convinti di essere in un in un modo ma in realtà se apriamo il cuore ai sentimenti vediamo il nostro vero io. Assolutamente sì Liuba, noi ne siamo... farò anche per te Antonella. Eh sì 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 guarda con Liuba lo dicevo proprio l'altro giorno parlavamo e dicevamo le dicevo proprio questo, molte volte noi non vediamo quali sono i nostri talenti, le nostre risorse perché restiamo chiusi in un'idea che non è producente per noi, ok? Non non ci rendiamo conto di quanto veramente valiamo e ci sono no momenti della vita in cui ci si sente un po' così, un po' svalutati, ci svalutiamo da soli, ci remiamo contro da soli e invece forse quando ci fermiamo a guardare più in profondità possiamo riconoscerci in maniera diversa. Assolutamente sì, Liuba usa un termine importantissimo, dice che talvolta ci siamo convinti. Ecco, le convinzioni hanno una forma mentis che porta al recinto, noi ci chiudiamo dentro un qualcosa... Dentro un contenitore. Un contenitore che poi ha sempre le stesse energie, no? È una scatola chiusa che non ha spazi, non ha spiragli, non ha finestre, non ha porte e noi siamo lì dentro, senza scambio con nessun altro, senza una relazione e quella è arroganza che abbiamo tutti, eh? Ci convinciamo di determinate cose. Ecco, si può aiutare alcuni di noi per lasciare andare le convinzioni, è importante proprio vivere le relazioni con gli altri attraverso un ascolto sempre basato sull'attenzione cosciente, ovvero sulla presenza. Perché nel momento in cui noi ascoltiamo altre persone, per quanto stiano dicendo qualcosa che differisce dalla nostra opinione, per quanto noi si possa non essere particolarmente d'accordo, per quanto noi le si consideri anche poco educate come persone, se le abbiamo incontrate, in parte le abbiamo richiamate, ma soprattutto avranno in un solo verbo, in una sola parola, in un solo atteggiamento, in una sola mossa qualcosa da dirci, qualcosa che ci dà uno spunto importante. E tutte le volte che anch'io mi metto a scrivere lo faccio spesso dopo che mi sono relazionato con qualcuno, perché questo mi ha portato un qualcosa in più, comunque di diverso, magari non condivisibile, ma ha aperto la possibilità di non essere più convinto di quello che credevo pochi secondi prima. Ecco, è solamente un semplice, mille consiglio, però è importantissimo, a mio avviso. Imma ci dice, sono riuscita ad avere un forte cambiamento dopo aver perso mia figlia, vittima di femminicidio. Lei mi guida e mi dà la forza di vedere l'invisibile, che è ciò che l'anima vuole e non ciò che io voglio. Ringraziamo Imma per questa... Grazie, Imma. Per aver riportato questo fatto molto forte e che non è semplice sicuramente poi da esprimere, no? Anche in una chat comune. Effettivamente, no, grazie davvero a te Imma perché è notevole e questo ci insegna tantissimo. Le anime ci guidano, sì sicuramente ci guidano, sono sempre comunque con noi e essere consapevoli dell'importanza, del messaggio del lutto e soprattutto del lutto, posso supporre quanto sia enorme, della perdita, solo supporlo perché non ho idea, da parte di una mamma della perdita della figlia in una maniera anche così molto forte porta per forza al cambiamento. Immagino, Imma. E questo è davvero notevole, per cui complimenti a te Imma per quello che hai fatto e che stai facendo perché una delle cose più semplici in queste situazioni è quello di abbattersi e di cadere proprio in dinamiche che ovviamente non possono essere e non devono essere giudicate ma soprattutto inducono alla stagnazione. Ecco, grande rispetto nei confronti di Imma, di quello che ci ha raccontato e grazie per il coraggio di questo enorme cambiamento. In un mio video tempo fa l'avevo intitolato Possiamo farcela ed è quello che mi arriva da quello che ci ha raccontato Imma. Noi possiamo farcela. C'è sempre la possibilità. Esatto. Anche paradossalmente, per fare un esempio un po' estremo se vogliamo, anche in quelle persone che vengono dichiarate terminali, che non hanno più sulla carta molte possibilità di restare in vita nel breve, effettivamente finché ci sono hanno ancora una possibilità. Ecco, questo può essere un monito di insegnamento per ognuno di noi ma soprattutto sempre riferito al cambiamento perché noi possiamo essere abili a rispondere se ci poniamo con coraggio e con sincerità di fronte alla possibilità di cambiare. Imma ci dice anche che insieme facciamo grandi cose, questo è molto bello, questo cambiamento di sentire energeticamente la figlia che ha lasciato la materia ma comunque è sempre con lei e quindi insieme facciamo grandi cose, sì, è a di poco straordinario per cui quando ci chiediamo perché facciamo queste dirette, perché le prepariamo, perché scegliamo gli argomenti, in questo caso nel rispetto sempre di tutti, di Liuba, Dalia, a Cleopatra, ma in questo caso Imma ci sta dando un senso profondo del lavoro che facciamo e dell'importanza di parlare di certi argomenti per cui grazie davvero Imma. Grazie. Antonella Cara, grazie. Noi parliamo dei progetti. Parliamo dei progetti, sì. Parliamo dei progetti, giusto? Esatto. Io ho un'età, tu che sei più giovane, dimmi tu che progetti abbiamo che non me li ricordo. Ma finisco. C'è un'età io, c'ho un'età. Eh, c'è un'età, dai che abbiamo la stessa età, anzi forse io sono più grande di te Antonio. Sì? Sì. Allora, Clubatar Web Marketing. Esatto, Clubatar Web Marketing. Web Marketing. Antonella Rossa. Esatto. Abbiamo una bella community, abbiamo una bella community intanto. Prego. che si chiama Comunicazione Efficace Autentica, che è dedicata ai professionisti del benessere, operatori oristici, professionisti del cambiamento, dove Antonio è presente praticamente, credo che sia stato il primo iscritto, se non il primo, insomma. Io ho detto prima che tu la facessi, devo dire la verità. Eh sì, sì, l'avevi già pensata, e io l'ho creata. Poi c'è una questione sul cambio del nome, ma questa è una cosa nostra. Vabbè, dai, la racconteremo in un'altra occasione. La raccontiamo poi. Esatto, è una community dove con Antonio abbiamo già fatto diverse cose insieme, privatamente, quindi per i soli iscritti alla community. Come diceva prima Antonio, abbiamo trattato tanti argomenti che sono appunto relativi alle resistenze, le paure del cambiamento, abbiamo parlato di denaro, quindi tutte le resistenze al denaro, le varie paure, insomma, che poi tutti abbiamo e che ci bloccano nel tirare fuori queste ali di farfalla meravigliose, ci bloccano nel rimanere, no? Un baco. E che cosa succede all'interno di questa community? Intanto diamo, do consigli sulla comunicazione efficace, quindi aiuto in qualche modo i professionisti del benessere a capire come comunicare verso l'esterno, quindi come aprire questa finestra sul mondo per farsi conoscere come professionisti e quindi per imparare a raggiungere i propri clienti ideali. Insomma, lo facciamo con delle pillole di comunicazione, di formazione, di consigli proprio su come si utilizzano strumenti di marketing per presentarsi e promuoversi ai nostri clienti. e appunto con Antonio ci è venuto in mente già all'inizio di quest'anno di fare questi incontri che abbiamo chiamato salotti virtuali che erano dedicati alla community e che abbiamo deciso invece di estendere, insomma, mettere pubblicamente con queste nostre dirette. A breve abbiamo pensato di creare delle pillole che supportano la community e nell'ambito olistico quindi e nell'ambito comunque del marketing, quindi dell'organizzazione, del marketing e dell'informazione e dell'alfabetizzazione digitale. Perché appunto, come dicevamo prima, essendo questo un cambiamento così attuale, dobbiamo imparare a utilizzare gli strumenti per rimanere al passo, per essere competitivi sul mercato e per lavorare fondamentalmente, quindi è importante. Per cui, a partire da, abbiamo detto, novembre... A partire da novembre le pillole sia di marketing che riferite al mondo olistico. In sottoni, per capirci, a livello di marketing, Antonella ci renderà edotti con delle piccole chicche riguardanti cosa fare in certe situazioni per gestire meglio aspetti di marketing. Esatto, esatto. Il sottoscritto creerà dei piccoli video con una certa frequenza, vediamo adesso se ogni settimana, vediamo un po', anche dalle vostre richieste, da quello che desiderate avere, da quello che possiamo darvi poi, nel senso delle nostre conoscenze, non peraltro. E creerò delle piccole piloti, alcuni minuti, dove vi magari farò vedere un po' come gestire un certo stato emozionale secondo quelle che sono alcune pratiche olistiche di automassaggio, di tocco di determinate zone oppure di lavoro su parti del corpo molto semplici, che potete utilizzare nel quotidiano per gestire determinate situazioni. Se siete operatori olistici o che stiate intraprendendo questo tipo di percorso, è importante essere nella condizione consona per porci come catalizzatori di quello che è il potenziale, l'energia delle persone che vengono da noi e soprattutto metterci in relazione con le persone anche quando ci raccontano fatti molto importanti come quello che per esempio con coraggio e grande apertura IMA questa sera ha raccontato a tutti noi. E quindi possiamo essere pronti e io cercherò di fare delle piccole pillole dove vi faccio vedere un po' come gestire determinate situazioni che portano all'alleviamento diciamo così dello stress emotivo e talvolta anche pratiche magari che so, su alcuni tipi di mal di testa oppure su quella che è la gestione delle tensioni muscolari che ci potrebbero poi favorire nel quotidiano per stare un po' più sereni. Ok? Certo, certo. E quindi da qui parte l'invito a tutti i professionisti del benessere di iscriversi a questa nostra bella community che è una community privata per cui siamo tra di noi e ci possiamo aprire e possiamo condividere e possiamo crescere insieme a livello personale e a livello professionale come diceva Dalia qualche tempo fa e anzi la ringrazio di essere qui stasera. e poi abbiamo pensato un'altra cosa con Antonio a partire dal 2024 volevamo proporre dei percorsi di formazione insieme dove tratteremo gli argomenti che man mano poi vi racconteremo che saranno insomma a disposizione di chi vorrà partecipare non pubblicamente quindi attraverso un link attraverso una piattaforma esterna da Facebook e insomma vi faremo sapere a breve che cosa bolle in pentola e poi due bucatini alla malriciana se li facciamo e poi quelli ci stanno bene salutiamo anche Sara che si è aggiunta a questa ciao Sara con i saluti e quindi abbiamo penso salutato tutti esattamente sì sì abbiamo salutato tutti e Antonella quindi noi tra poco daremo novità a tutte assolutamente le ragazze e i ragazzi che ci seguono nella community e già dalla prossima settimana ci sarà qualche nostra pillola e se doveste dopo aver visto qualche pillola nostra avere delle richieste particolari che possiamo sì certo possono chiedere tranquillamente noi cerchiamo di attivarci in tal senso così ci stimolate anche a uscire dal nostro recinto di pratiche quotidiane che magari sono sempre quelle e così riusciamo a dare aiuto a tutti quanti voi bene anche Cleopatra ci ringrazia nuovamente grazie Antonella Cara che cosa dire io ringrazio come sempre te per la splendida partecipazione per la moderata precisa elegante esposizione grazie Antonio grazie a te sempre un piacere lavorare con te un piacere assolutamente mio è sempre costruttivo tutto questo ci ringrazia anche Imma e se anche nei prossimi giorni Alba si aggiunge ai saluti e ai ringraziamenti se nei prossimi giorni c'è qualcos'altro che volete chiedere o aggiungere a quello che ci siamo detti in questa bellissima chiacchierata fra tutti noi nella chat scrivete pure oppure contattateci tranquillamente attraverso i social abbiamo anche la pagina di Youtube vero Antonella tu da poco hai aperto la pagina io ho aperto il canale Youtube da poco iscrivetevi per supportarmi iscrivetevi anche al canale di Antonio Pisano perché è molto interessante ci sono tantissimi video di automassaggi che sono veramente molto utili quindi vi consiglio assolutamente di seguirci entrambi e poi mettiamo anche nei commenti il link per iscriversi alla community sicuramente perfetto Dalia ci saluta ancora contenta delle novità e cambiamenti Renata ci dice grazie per tutti gli spunti di riflessione grazie a voi perché comunque quando ci seguite siete voi a darci i veri spunti e tante persone comunque ci chiedono determinate cose e ci danno spunti nel quotidiano e quindi il ringraziamento più grande è sempre a voi che dedicate del tempo per ascoltarci e ci comprate così a scatola chiusa poi nella prima scatola e dice vabbè è andata come è andata però comunque comunque siete davvero molto gentili e molto molto simpatici Dalia esagera ma solo perché è nostra amica e ci dice ma siete fantastici io penso grazie Dalia ma è riferito solo a te Antonella è giusto così ma sei fantastica bene noi chiudiamo con una risata questa serata avendo comunque attraversato momenti in questa serata di grandi spunti di grande riflessione e noi davvero vi ringraziamo col cuore tutte quante ringraziamo sia la parte maschile e femminile che vi riguarda anche se poi siete comunque tutte donne e vi diamo appuntamento prossimamente non solo con le pillole ma vi diamo appuntamento con altri nostri eventi in diretta che sicuramente saranno oggetto di grande attenzione nella preparazione da parte nostra e vi avviseremo ci vedete sui social ci incontriamo qua e là nell'universo esatto esatto in altre vite un grande abbraccio un grande abbraccio a tutti voi grazie Antonella grazie Antonio grazie a tutti e una buona buonanotte a presto buonanotte apritevi al cambiamento assolutamente sì apriamoci apriamoci buonanotte buonanotte a tutti